Dai su, forza ragazzi, tra 5 minuti tutti pronti che c'è il Daily Meeting, tutti in sala riunione. Quante mattine non iniziano così per chi lavora in un team di prodotto, in un team di sviluppo? Penso tantissimo, praticamente tutte. Il Daily Stand-Up Meeting è una cerimonia ricorrente per chi adotta le pratiche di sviluppo cosiddette del mondo agile. In particolare viene adottato e seguito da chi adotta lo Scrum Framework, il framework di lavoro agile più famoso. Per oggi vorrei darvi un'interpretazione diversa. Facciamo prima un passo indietro. Nel Daily Meeting il format più famoso più o meno è qualcosa del genere. Si va a turno uno alla volta ai partecipanti del Meeting e si chiedono le fattifiche tre domande. Che cosa hai fatto ieri? Che cosa farai oggi? E di che cosa hai bisogno? Ci sono dei problemi? C'è qualche cosa che non riesci a fare? Ci sono delle difficoltà? E ognuno dei partecipanti al Meeting risponde a queste tre domande. Dopo aver acquisito un po' di dimestichezza questa cosa viene abbastanza naturale e il team procede in questo rituale praticamente tutti i giorni. Per i team che invece adottano una Kanban Board o lo stile Kanban per la gestione delle attività il Daily Meeting è un qualcosa di leggermente diverso. Prende una forma diversa. Il facilitatore o il moderatore del Meeting che cosa fa? Beh, si fa la lettura, quella che si dice, la lettura della board. Per convenzione e per rinforzare il concetto che il sistema Kanban è un sistema in pull, in tirare quindi dove non è che il lavoro viene spinto da sinistra verso destra del nostro processo e il team viene continuamente caricato di lavoro e fa tante cose in contemporanea il sistema Kanban è un sistema in tirare quindi dove il team accetta il lavoro solo se la propria capacità lo consente grazie ai WIP Limit. Questi dettagli potranno essere argomento di un altro video se vi interessa fatemelo sapere nei commenti. Dicevamo, Kanban è un sistema in tirare quindi le attività vengono accettate dal team in modalità da destra verso sinistra ecco che la lettura della Kanban Board da parte del moderatore avviene in questa modalità quindi si parte dai work item che sono più a valle del nostro processo il moderatore si concentra su quegli item, su quei cartellini che hanno problemi che sono facili da individuare perché sicuramente un team che adotta la Kanban Board avrà preso delle convenzioni tipicamente per esempio i cartellini con dei problemi vengono colorati di rosa ecco che è molto facile capire ciò che sta avendo dei problemi nelle attività in corso il moderatore si concentrerà su queste attività e cercherà di attivare il team in modalità proattiva per cercare di sbloccare il più velocemente possibile queste unità di lavoro che devono essere smaltite per far riprendere il normale flusso delle attività questo procedimento viene fatto colonna per colonna appunto da destra verso sinistra i team che stanno prendendo pratica con questa modalità possono anche scorrere velocemente i cartellini che non hanno alcun tipo di problema magari rileggendone il titolo o facendo un velocissimo recap i team ad alta maturità invece si concentreranno semplicemente su quelli che sono le issue bloccate o con dei problemi questo tipo di approccio permette di ridurre notevolmente i tempi perché non tutti i presenti al team meeting devono parlare ma si parlerà solo ed esclusivamente di ciò che ha problemi di ciò che è bloccato questo permette di scalare il team meeting di averlo con molti più partecipanti perché appunto gli interventi sono più ridotti ed estremamente focalizzati tutto questo è possibile perché una kanban board ben strutturata è un naturale radiatore di informazioni che tramite la disposizione dei cartellini sulla board eventuali swim lane eventuali codifiche di colori i whip limit e così via ad un occhio abituato per un occhio abituato a leggere una kanban board è un attimo capire che cosa sta succedendo ecco perché i daily meeting sono molto più rapidi con questo sistema se hai esperienza di team meeting guidati da una kanban board fammelo sapere nei commenti sotto e dimmi come ti trovi andiamo ora al computer e facciamo un esempio pratico con una kanban virtuale quella che vediamo qui è una kanban configurata su Azure DevOps Azure DevOps non è l'unico strumento sul mercato che permette di fare kanban virtuali ma è quello che conosco meglio per cui lo utilizzo per questa dimostrazione come vediamo qui davanti abbiamo una kanban board con una, due, tre, quattro colonne abbiamo anche dei whip limit impostati qui abbiamo 4 su 5 4 su 5 anche per la fase di design mettiamoci nei panni del moderatore del meeting e facciamo un esempio cominciamo da leggere a destra verso sinistra quindi l'occhio mi cade immediatamente su questa user story che dice mi accorgo che ha subito dei problemi perché come team ci siamo messi d'accordo che i work item problematici vengono colorati di rosa quindi facendo finta che questa attività sia assegnata a Michele Ferracin il moderatore chiederà ehi Michele allora cosa sta succedendo come mai hai marchiato questa unità di lavoro come problematica che cosa sta succedendo hai bisogno di aiuto cosa possiamo fare per sistemare la situazione e così via sì sto avendo delle difficoltà perché sto utilizzando delle API della nostra software che non conosco molto bene e devo andare a chiedere dei chiarimenti a chi le ha fatte perché mi sembra che ci sia un bug ieri il collega non c'era oggi è rientrato gliene parlerò immediatamente è finito questo meeting ora ragazzi mi stavo accorgendo che anche qui nella fase di design abbiamo un problema c'è qualcuno che me lo vuole spiegare? e così via insomma si scorrono le unità di lavoro problematiche si cerca di capire che cosa succede e si sblocca il lavoro grazie a tutti grazie a tutti